eravamo tutti insieme a Montepulciano e eravamo insieme a Montepulciano insieme a David Sassoli e credo che il più bello in bocca al lupo che dobbiamo darci tutti insieme è proprio che l'ultima frase con la quale David fece gli auguri di Natale dell'anno scorso e disse la speranza non è che sono gli altri, ognuno si carichi la sua responsabilità, la speranza siamo noi ogni volta che non alziamo muri alle nostre frontiere, la speranza siamo noi ogni volta che combattiamo contro tutte le disuguaglianze e le ingiustizie e queste parole di David Sassoli ci accompagnano in questa fantastica campagna elettorale che andremo a vincere. Grazie!